Ridare rappresentanza ad un quartiere che ha perso punti di riferimento istituzionali. Questo l'obiettivo del Comitato per Sant'Antonio, gruppo di azione promosso da Roberta D'Amico, giovane passionaria tornata alla politica sul campo dopo la buona affermazione alle ultime elezioni amministrative. Tre i punti chiave del Comitato, cultura, sicurezza ed attenzione per il sociale. Nasce un comitato di quartiere perché è forte l'esigenza di autorappresentarci. Nasce soprattutto perché abbiamo voglia e c'è la necessità di ritornare a fare politica, a fare delle proposte e a risolvere dei problemi visto che viviamo da troppi anni in uno stato di abbandono. C'è anche un problema di rappresentanza qui a Sant'Antonio visto che l'unico consigliere eletto nel quartiere, Mario Vivone, si è dimesso per fare posto ad Ernesto Sica. Come è stata interpretata questa cosa qui? Una scelta irrispettosa che nulla a che vedere con la politica ma solo con interessi personali di qualcuno. Chiaramente sentiamo l'esigenza di autorappresentarci anche per questo, per portare la nostra voce in Consiglio Comunale, per portare la nostra voce a questa nuova amministrazione in modo da risolvere i problemi di questo quartiere. Un territorio difficile è quello di Sant'Antonio. Tante sono le problematiche. Quali sono quelle prioritarie per voi? Tante sono le problematiche. Dobbiamo ritornare a parlare di vigile di quartiere. È necessario. Sentiamo forte l'esigenza di un vigile di quartiere, di un presidio. Abbiamo le strade sporche, abbiamo una villa comunale, un luogo che vivono le famiglie, i bambini. Ci sono le siringhe, ci sono carte, c'è spazzatura in giro per il nostro quartiere. Quindi io ritornerai a parlare dell'essenziale, delle cose primarie che servono a un quartiere per vivere una quotidianità tranquilla. Un comitato che dalla sua recentissima Costituzione ha già ricevuto molte adesioni, un segnale importante, c'è voglia di fare politica, c'è voglia di incidere nelle decisioni dell'amministrazione. Sì, molte adesioni, gente che vuole ritornare a fare politica, gente che vuole dare una mano alla propria comunità. Questa volta dobbiamo impegnarci di più perché dobbiamo far riappiassionare le persone alla politica, alle persone normali e dobbiamo far rivivere soprattutto il quartiere e i cittadini che sono residenti qui. Questo è lo sforzo che faremo nei prossimi mesi, metteremo in piedi delle iniziative proprio per far riappiassionare le persone alla politica, per fare delle proposte che vanno nell'ottica di dare una mano.